Quando ero giovane, ero un po' appassionato di enigmistica, ai tempi dell'università facevamo anche delle gare, dei concorsi, parlo di 40 anni fa, si diceva ma sarebbe interessante avere nel nostro giornale una pagina per i giochi, qualche cosa, se volete io posso fare un tentativo, mi preparo per esempio un cuciverba, uno schema, l'ho inviato, come eravamo d'accordo, è stato preso e l'ho cominciato a pubblicare. Così ho cominciato e ho continuato, ho continuato per più di 40 anni. Scoprire il valore delle parole, il significato delle parole, le parole nel cuciverba diventano autonome, se vuole, cioè non rientrano più nel contesto linguistico usuale, abituale, soprattutto quando poi bisogna dare la definizione. Non deve essere un lemma definito da un vocabolario, da un dizionario. Lo stermine pesci, non metterò nella definizione animali acquatici, ma dirò, non so, non li piglia chi dorme. Io parto dalla parte centrale del cuciverba e quindi scelgo una parola relativamente lunga, affinché io possa poi accorciarla, se del caso, o trovare poi combinazioni con altre parole di non lasciare troppe caselle nere al centro del cuciverba. Ci vuole un certo spazio anche visivo, no? Il cuciverba deve essere dal centro, irradiane, una zona, lasciare aperte varie possibilità. Prima di andare in pensione io mi occupavo soprattutto di linguistica giuridica, quindi del linguaggio giuridico in generale, affrontato anche nel contesto svizzero e quindi nel contesto del trilinguismo. collaboravo a Perna, al Palazzo Federale, dirigevo il servizio di legislazione in lingua italiana, in più davo dei corsi di traduzione giuridica all'Università di Ginevra, contatto forzato, quotidiano con la lingua e con i problemi linguistici, eccetera. Alla fine, quando sono andato in pensione, avevo parecchio materiale raccolto, nel senso della terminologia giuridica, soprattutto grazie appunto ai corsi che avevo fatto a Ginevra. Quindi ho cominciato a lavorare, a raccogliere, a classificare e ho deciso di tentare una pubblicazione. Uscirà approssimamente un glossario, un lessico giuridico trilingue, dove si dà la definizione in italiano del termine, con l'equivalente poi in tedesco e in francese. Sono circa 10.000 termini, quindi è già un volumetto abbastanza. Per darvi l'idea di una definizione fatta bene, il termine idea, ho letto una volta che è stata definita come si espone come balena. La soluzione è idea, perché è un'idea balena. Ah, è vero. Chi legge, dice si espone come balena e pensa alla balena esposta in un museo o qualcosa di simile. Ecco, definizioni di questo tipo sono mica male.